Giuseppe Mangone, presidente della società di categoria Liberi Agricoltori ANPA Calabria, ha espresso una dura critica alla politica regionale riguardo alla gestione della crisi nel settore del bergamotto. Il decreto agricoltura recentemente approvato dal governo include diverse iniziative a favore del settore agricolo, come le modifiche del decreto legislativo 198 2021 per proteggere la filiera agricola della grande distribuzione e misure per affrontare i problemi come il granchio blu, i cinghiali e la peste suina africana. Tuttavia, secondo Mangone, manca l'attenzione necessaria per i danni climatici subiti lo scorso anno dal bergamotto di Reggio Calabria, che coinvolge oltre 1500 ettari e centinaia di famiglie agricole. Mangone ha ricordato che a novembre la politica regionale e locale aveva promesso il lancio di un bando per riconoscere i danni alla filiera del bergamotto e prevedere ristori governativi e regionali. Tuttavia queste promesse non si sono concretizzate e le interlocuzioni con il ministero si sono arenate, lasciando la comunità agricola senza risposte e sostegno. Probabilmente per qualcuno il territorio cosentino è sempre più importante di quello reggino, ha concluso Mangone, evidenziando una percepita disparità di trattamento tra le diverse aree della Calabria.